Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Teleitalia. Tajani, il problema è se si riuscirà ad andare alle elezioni. I grillini temono di scomparire dal palcoscenico principale della politica. Accetteranno qualsiasi cosa da parte del Partito Democratico. Sono stati prima al governo con la Lega, ora con il PD. Per loro importa solo stare al governo, lo dice il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, ospite ad Agora su Rai 3. Sullo scontro tra Berlusconi e la magistratura è una questione politica. Dalla magistratura c'è stata una sorta di persecuzione contro Berlusconi, ma quella sulla giustizia è una questione di tutti i cittadini italiani. Lo stesso capo dello Stato si è espresso affinché tutta la magistratura torni ad essere indipendente. Berlusconi, come tanti altri cittadini, è stato vittima di un sistema perverso. Spiega Tajani e continua, non c'è nessuna follia nel voler chiedere la nomina di Berlusconi a senatore a vita. Berlusconi è stato destituito dal Senato applicando in maniera retroattiva una legge, una cosa che non accade in nessun paese del mondo. La legge Severino ha portato Berlusconi fuori dal Senato con un'applicazione retroattiva, quindi è una questione di civiltà giuridica. E su questo Tajani assolutamente ha ragione. La legge non è mai retroattiva, mai retroattiva. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube. Grazie per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.